non solo qua in Romagna, quindi è veramente un buon rappresentante della nostra tradizione allora, ed è bravo veramente Tony Lembo, ecco qua, abbiamo l'entrata l'entrata proprio, tracchete allora, bene, si va subito con un classico per sax con le dovute tempistiche, quindi messa a posto del microfono ancoraggio del sax togli, diciamo togliti un lembo di sax sei pronto, concentrato? allora dai de gas, via fuori la prima, pagliaccio grazie a tutti 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 forte, tosta da sottolineare anche la ritmica che non ti ha risparmiato no, perché si era raccomandato mi raccomando, tranquilli buonanotte, sono andati a tutto gas va bene, va bene, così è così che si fa questi vanno, San Marino allora, tra l'altro, tra l'altro anche questa è tosta, questa è forte, lisetta, anche questa è impegnativa, polca veramente di quelle importanti ma ascolta, con la dedica, con la dedica alla moglie va bene, diciamo, diciamo, fa la dedica alla moglie, ah, c'ho il mio amico romano che mi dice di entrare in quadrato, bene, a dopo, a dopo, lisetta, mi raccomando la velocità, eh mettiamo il metronomo, vai, stiamo grazie a tutti 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 allora, grazie per la tua presenza abbiamo una valletta no, no, è obbligatorio baciare la valletta, sempre, sempre allora, sono dal nome in comune grazie a tutti